ciao ragazzi e ciao ragazze benvenuti in un nuovo video spesa allora facciamo un primissimo video spesa per realizzare questa torta di caramelle allora ovviamente questi sono i miei gusti voi potete scegliere qualunque tipo di caramelle allora io ho preso queste qui che sarebbe ovviamente marshmallow ne ho preso uno e due poi ho trovato i macarons questi sono allo champagne e questi invece sono al lampone io ne ho presi tre confezioni perché sicuramente poi ce ne dovrò fare altre ricette poi ho trovato questi girasoli di zucchero credo margherite rosse in ostia quindi si va bene poi ho preso queste caramelline e poi ho trovato questo tulle ovviamente mi sono dimenticata di dirvi aspettate ho comprato anche la base per poi tenere la mia torta ovviamente per i polistiroli li potete trovare anche nei casalinghi ben forniti e poi ho comprato pure scusate se sentite che colorano le cose il tulle rosa ovviamente poi potrete potete scegliere voi quale colore preferite io insomma sono andata un po ai miei gusti ovviamente questa sarà una torta per i bambini è chiaro quindi insomma deve essere super colorata e sicuramente può essere anche un'idea per un compleanno allora ancora non so bene come dovrò impostarlo tutto quanto diciamo il lavoro sicuramente vi posso dire che per bloccare le basi prendete questi stuzzicadenti li infilate fino alla fine fino a qui e una volta che vedete è bello teso lo andate poi a tagliare se avete le tronchesine io non le trovo quindi penso farò con le forbici e niente ci vediamo comunque dopo e spero cercherò di riprenderlo ma comunque è un video molto facile e comunque sicuramente molto semplice e divertente a dopo allora sta prendendo forma la mia torta allora quello che vi posso dire è che io sto praticamente utilizzando degli stuzzicadenti li sto tagliendo a metà e praticamente li sto diciamo inserendo dentro il marshmallow guardate che cerco di farvelo vedere ok e poi sto andando praticamente ad attaccarli con il poristirolo e sta avvenendo una sorta ecco questo qui una sorta di di giro di caramelle e poi andrò a posizionarci sopra anche quest'altro per farlo più carino cerco di riprendervelo in questo modo in modo tale che riuscite bene a capire perché un po complicato lasciare il video e iniziare a fare il montaggio mentre io procedo perché verrebbe un video veramente troppo lungo facciamo tutti dei pezzettini in modo tale che insomma riuscite bene a capirlo a dopo allora ecco che ho fatto prima una panoramica e ovviamente qui non è che c'è bisogno molto di spiegazioni insomma va molto anche alla vostra immaginazione ecco io sono andata molto a immaginazione comunque ho opla scusate ho messo questo tulle qui intorno poi ho continuato a mettere queste caramelle alternandone con queste qui tipo morositas non neanche come si chiamano sì frutti di bosco non lo so e adesso invece sto andando a mettere queste altre qui gommose e sarebbero alla fragola queste si sempre più o meno credo sia marshmallow marshmallow ok allora niente ci vediamo dopo e continuiamo con la ripresa del del video ciao 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 ciao